Un comune italiano, un paese italiano ha poche certezze. Ha la certezza di avere una chiesa, poi di avere le scuole, di avere gli edifici pubblici, una bella piazza alberata e dietro gli alberi le poste. Ed ecco le poste, telecomunicazioni come in ogni paese dicevamo. Ci sono alcune certezze, quella che puoi spedire una lettera nella buca delle lettere come accade naturalmente in era digitale ancora per qualcuno e che poi puoi andare all'ufficio postale a fare le tue operazioni. Oppure no. Ed eventualmente si possono sempre utilizzare gli ATM, i servizi postmat. Ah, fuori servizio. È arrivato a Cesareno questa notizia della chiusura poste e abbiamo chiaramente dovuto subito correre i ripari. Da venerdì, grazie anche al contributo all'Avas della nostra associazione, parte un servizio che collega Pove a Solagna appunto per creare un servizio delle poste e quindi accompagnare gli nostri anziani e chi non è automunito alle poste di Solagna dove hanno trasferito la funzione. Quindi la soluzione di un ufficio postale chiuso praticamente a sorpresa passa questa volta attraverso il fai da te e la buona volontà degli amministratori di un comune di 3.100 abitanti come Pove del Grappa. Un comune con la piazza, la chiesa, il bar, le scuole e la voglia di continuare ad abitarlo come una volta si faceva in tutti i paesi normali d'Italia. Sempre se l'ufficio postale faccia parte o meno di queste piccole e grandi certezze, che non possono sparire per mesi e mesi come se nulla fosse dall'oggi al domani.